Uno spostare il bastone e attaccare subito. Questa botta e attacco è molto efficace nel combattimento perché togliete dalla traiettoria subito l'arma. Lo faccio un attimo io. Siamo qui, tieni sul bastone. Bene, difesa. Si dà un po' di impulso per far abbassare le braccia, è comodo, soprattutto quando noi cerchiamo, vedi, lo spazio lui non ce lo dà, allora dare il colpo e entrare subito è efficace. Bene, quindi falloti adesso e lavoriamo spostandoci un pochino, non rimanendo fermi. Lui cerca l'ingresso. Quando è pronto, cosa fa? Toglie e entra dentro. Entra dentro a 45 gradi. Va bene anche in quest'altra direzione. Cioè, siamo così. Lo faccio io, guarda. Deve essere fatto questo. Siamo così. Io voglio entrare dentro di qua. Bene. E tenete in considerazione l'idea sempre della traiettoria a 45 gradi. Sia che lo facciate in qua, sia che lo facciate in questa direzione. In modo, vedete che lui deve essere, dovete entrare. Se restate qui, lui ha sempre la sua fase difensiva in Se invadete e già attaccate subito, avete superato la difesa. Va bene?